Buongiorno Il gigante credo che ti fa male però ti sono detto se vai a lì con te ti ingessano al 99,99% o ti fa male o non ti fa male Ma che sgonfiata? Ma la sgonfiata non si fa con la compressione è quello che ti voglio dire che ti ha compresso La sgonfiata si fa con il ghiaccio con il ghiaccio è calato Stai pure a farlo quando la sgonfiare è quello che ti ha subito Mi ha ancora croccato Proprio della ruggine questa schiena 15 giorni, ho più di 15 giorni Non ti piace il biscotto Ti piace il biscotto? Ti piace il biscotto Ti piace il biscotto? Ti piace il biscotto? Ti piace il biscotto? Piglia che segna bianco Si Segna bianco E' come lì Rolando E' come lì E che cosa ti piace? E' come lì 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 In un po' E' come lì Gli altri Pagliare Pagliare Ma che si chiama? Pagliare Perfugia Di fuggire? Hai capito quando tu ti sei? Per un meno! Qui stiamo in balese e mi guarda se è la super 10 No, 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 no.